All'appuntamento internazionale con il mondo del cibo debutta Mixer Village, tanti marchi presenti ed ecco un altro che abbiamo incontrato, insomma abbiamo detto primo anno qua a Mixer Village, che cosa rappresenta per il vostro marchio? Ma sicuramente un importante evento come ormai tutto il mondo sostiene questa iniziativa di questo B2B, sicuramente molto interessante perché vediamo questa iniziativa in particolare di Mixer Village, un ottimo momento di incontro con gli operatori del settore, sicuramente meno con il target classico di tutto food ma evidentemente era un obiettivo questo mirato, però ci ha permesso di presentare in anticipo due importanti modelli che stanno uscendo in questo momento e che stanno devo dire avendo un grosso successo perché ci stanno facendo tutti i complimenti per cui siamo molto soddisfatti di questo. E allora svegliamo anche al nostro pubblico questi due importanti modelli, quali sono? Si chiamano classe 7 e classe 9, noi ormai da qualche anno abbiamo deciso di chiamare le nostre macchine con classe, non sto a spiegarne il motivo perché mi sembra evidente, escono in contemporanea e rappresentano un medio basso di gamma e un medio alto di gamma, saranno i nostri prodotti di punta come comunicazione e come pubblicità in occasione di host, però ribadisco abbiamo avuto l'opportunità e non ce la siamo fatta sfuggire di presentarli in questa occasione, ringraziando anche ovviamente Mixer perché senza questa iniziativa non ne avevamo la possibilità.